180 minuti finali che valgono una stagione per Isernia e Olimpia agnonese. Le ultime due di campionato possono valere la salvezza per le due squadre molisane oppure al momento per una sola lo spareggio play-out. La situazione in classifica alla luce dei risultati di domenica scorsa vede lo stesso punteggio 37 con più uno sul Castelfidardo, più tre sul Monticelli e più sei sulla Folgore Veregra. Al momento solo una tra Isernia e Agnone appaiata in graduatoria sarebbe salva. La situazione comunque non è del tutto negativa per entrambe. Ricordiamo che il margine per disputare i play-out è di otto lunghezze. Dunque se i Bianco Celesti o i Granata dovessero riuscire a staccare di otto o più punti la Folgore Veregra sarebbero salve direttamente. Non solo la possibilità di ottenere la salvezza diretta ma anche riuscire a staccare la compagine di Monte Granaro. Due strade percorribili al patto di muovere la classifica al massimo possibile in questi due match. In casa Isernia il pareggio di Castelfidardo è stato accolto in modo positivo. Le attenzioni sono tutte rivolte allo scontro salvezza di domenica prossima al Lancellotta contro il Monticelli dove si decideranno le sorti di un'intera stagione. Il preventivo dei tre scontri diretti consecutivi era di almeno sette punti. Dopo il successo contro l'Avezzano e il pari di Castelfidardo serve un nuovo successo per poi provare a strappare qualcosa nell'erbi di Campobasso. Mister Gioffre ritrova Saltarin e Gilardi che hanno scontato il turno di squalifica e può preparare al meglio lo scontro diretto con il Monticelli. Dunque vincere obbligatoriamente in attesa di buone notizie da Monte Granaro dove il Campobasso, ospite della Folgore Veregra, scenderà in campo per blindare il terzo posto. Seconda gara consecutiva al Civitelle per i Granata che ha archiviato il tonfo giustificato contro la San Benedettese preparano la sfida al San Nicolò. Anche qui necessario vincere per credere nella salvezza diretta. Dopo il San Nicolò gli uomini di Mister Di Meo chiuderanno Amatelica contro una squadra ormai demotivata. Dunque sei punti fattibili serviranno tutte le energie per concludere nel migliore dei modi la cavalcata iniziata con il tecnico pugliese da due mesi e mezzo. Tra l'altro a sottolineare l'operato di Mister Di Meo domenica scorsa è arrivata per lui la prima sconfitta dopo dieci giornate. Nel momento della stagione sicuramente più difficile come sanno bene gli addetti ai lavori nel girone di ritorno ogni punto ha il suo valore.